L'epilessia del lobo temporale è una delle forme più frequenti di epilessia ed è anche una delle più studiate. L'approccio multidisciplinare ha infatti permesso di ottenere ottimi risultati sia con le terapie farmacologiche sia con quelle chirurgiche. Delle nuove prospettive di studio e di cura di questa malattia se ne è discusso durante un incontro organizzato al Neuromed di Pozzilli in collaborazione con la Lega Italiana contro l'epilessia e la Società Italiana di Neurologia. È forse la forma di epilessia focale più frequente nell'adulto e anche quella che troviamo di più nelle serie chirurgiche dove appunto si tratta chirurgicamente i pazienti che non rispondono alla terapia medica per cui conoscere bene questa forma di epilessia è molto utile proprio ai fini anche terapeutici. Il lobo temporale è una struttura che consente anche molte speculazioni da un punto di vista scientifico la si può approcciare tanto da un punto di vista genetico molecolare da un punto di vista neurofisiologico e anche clinico quindi una sorta di laboratorio di neuroscienze. L'istituto di ricerca e cura di Pozzilli affronta questa malattia dal punto di vista clinico chirurgico e scientifico grazie al centro per la chirurgia dell'epilessia e ai laboratori di ricerca dedicati. Tutto ciò ha permesso di mettere in campo terapie chirurgiche e farmacologiche sempre più efficaci che tengono conto delle specifiche esigenze di ogni paziente. La sequenza terapeutica prevede sempre prima l'utilizzo di farmaci laddove spesso in questa forma di epilessia accade bisogna assolutamente verificare la possibilità che un intervento chirurgico che rimuova le strutture cerebrali responsabili delle crisi del paziente si possa eseguire perché questo assicurerebbe in molti casi la guarigione. In casi dove nemmeno questo è proponibile, sono casi epilessiai più complesse, la neurostimolazione in sé è una procedura pagliativa che comunque difficilmente ottiene la guarigione del paziente ma può migliorare molto la frequenza delle crisi e in ultima analisi la qualità della vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.